Intanto, grazie alla premessa, ho capito anche che cosa potrei fare io in questo tavolo. Un'azienda come la nostra, che lavora un po' dietro le quinte, da tanti anni, direttamente con le farmacie, insieme alle industrie che vogliono fare dei progetti insieme ai farmacisti, con tanta etica, tanto coraggio e tanta fatica. Per cui se è un tavolo di lavoro, sono a casa mia. Abbiamo avuto l'opportunità negli ultimi anni di guardare davvero all'interno le dinamiche di questo canale e una delle cose di maggiore discontinuità rispetto agli anni pre-pandemia è proprio la diversa distribuzione del traffico rivolto alla farmacia in funzione dell'ubicazione del bacino d'utenza. Abbiamo visto le farmacie, la mia farmacia sotto casa, no? Le farmacie delle province, quelle con una prevalenza di ubicazione in zone residenziali, drenare molta più domanda di salute rispetto alle farmacie dei centri, con vocazione sicuramente più commerciale, che sono ovviamente state penalizzate dai lockdown. Ma quello che si vede già dai primi mesi del 2023 è un ritorno a quella che era la situazione pre-pandemica, come se queste farmacie non fossero state capaci di capitalizzare questo patrimonio di ingressi e di relazioni che avevano potuto drenare durante gli anni della pandemia. E questo, se ci pensiamo, è un po' un peccato. Erika diceva che c'è un medico che è più lontano dal paziente, in qualche modo. Se guardiamo le proiezioni Agenas per il 2025, i medici saranno negli ultimi 25 anni diminuiti del 25% e contemporaneamente le farmacie nello stesso periodo sono aumentate della stessa dimensione. Quindi una capillarità che è veramente un'opportunità incredibile. Dall'altra parte c'è un altro aspetto che io vorrei mettere sul tavolo. Noi abbiamo migliorato tantissimo e in modo molto veloce negli ultimi anni la capacità diagnostica, la precisione dell'egnanosi grazie alle nuove tecnologie, a nuovi metodi, nuovi database. Peccato che il medico abbia minori occasioni di incontro dei pazienti. Il paziente cronico, le patologie croniche sono spesso asintomatiche agli esordi, è più difficilmente intercettabile. E chi è quella sentinella sul territorio che può appunto incontrare le persone anche quando non sono in uno stato di acuzia? Oggi le persone si recano prevalentemente dal medico quando c'è un bisogno acuto, visto che anche il refill delle terapie croniche può avvenire per via digitale, lo sappiamo. Quindi la farmacia è davvero una grandissima opportunità. Si parla di farmacia dei servizi e qui affrontiamo, visto che si lavora, un tema cruciale. Sappiamo che questa non è una possibilità per tutti se pensiamo all'investimento nell'area dell'autodiagnosi, dove la farmacia deve investire parecchio ma anche ha bisogno, e questo è un mio punto di vista, io vengo proprio dal mondo della ricerca, quindi lo dico con grande enfasi, ci credo molto, la farmacia avrebbe veramente bisogno di protocolli certificati, di modelli di best practice, perché quello che fa la qualità che può erogare venga effettivamente riconosciuta anche a livello istituzionale. E questo è per alcune farmacie, ma il tema dell'educazione alla salute è un tema alla portata di quasi tutte le farmacie italiane. E lì aggiungiamo un altro numero, io sono veloce, molto pratica e spero di dare con questo un contributo, i dati dell'automedicazione. Se noi guardiamo le serie storiche lunghe, l'automedicazione intesa con ciò, non solo il farmaco di automedicazione, ma tutto quello che ci ruota intorno, quei prodotti che vengono percepiti come meno invasivi rispetto al farmaco più adatti a un uso continuativo, negli ultimi dieci anni sta crescendo con un tasso medio infatturato di oltre il 4% e di quasi il 3% in termini di unità. Significa che c'è una domanda, una domanda. Le persone sono pronte, lo desiderano, desiderano questo consulente della salute accessibile, non solo con il click, ma anche proprio con la presenza fisica. E questo credo che sia una grande opportunità. A questo punto il mio messaggio per le aziende, che sono quelle che hanno la maggiore possibilità di supportare in questo ambito le farmacie, io ci lavoro quotidianamente, quindi mi sembra di poterlo dire con certezza, devono cominciare a ragionare spostandosi dalla negoziazione su Selin alle opportunità che le persone forniscono all'interno del bacino d'utenza delle farmacie. C'è un grande, grande bisogno di questo, il primo che ci lavora bene, secondo me, può fare la differenza. Grazie. Grazie, grazie tante. Elena Forpini.